Liaic applaude ironicamente, dice qualche parola di troppo all'allenatore, che si scaglia contro il giocatore e lo colpisce una, due, tre volte con dei puni. Intervengono il team manager Rita e il medico della Fiorentina per calmare l'allenatore. Liaic va via scoppiando in lacrime e Deleuorossi facendo allarme, dobbiamo tutto che è tutto a posto. E anche il quarto uomo dice tutto tranquillo, quindi sbaglia.